Cari amici, la macchina della censura una volta che si è messa in moto diventa difficile da controllare. In questi giorni abbiamo assistito a due vicende solo all'apparenza lontane. Partiamo da quella più vicina a casa nostra, il Circolo Pink, che è un'associazione LGBT, cioè nata dalle cenere dell'Archigay, ha chiesto al sindaco di Verona di cancellare lo spettacolo Romeo e Giulietta, uno spettacolo di danza in programma il 26 agosto. Il motivo, la pietra dello scandalo, è il protagonista, che è il grande ballerino russo Sergei Polunin. Un fenomeno a detta di molti, un omofobo invece a detta del Circolo Pink, ma anche dell'Opera di Parigi che si è spaventata davanti ai tatuaggi del ballerino. Putin sul cuore, il suo idolo, e l'Ucraina, possibilmente russa, pare di capire, sulla mano. A Parigi non ci hanno pensato due volte, gli hanno tolto il ruolo di Siegfriedo nel Lago dei Cini e vedremo cosa succederà in Italia. In effetti Polunin ha manifestato opinioni da fesso sugli omosessuali e le donne sui social network, però il fatto di essere fessi non implica essere anche cattivi ballerini. A Verona Polunin verrebbe a ballare e non a dire fesserie dal palcoscenico. Impedirgli di fare il suo mestiere, dunque, significa limitare la sua libertà in nome paradossalmente della libertà. Ancora più grottesche e incredibili sono le notizie che giungono dal Festival di Cannes, dove imperversa la polemica contro la palma d'onore, la palma d'oro alla carriera, assegnata ad Alain Delon. L'attore non ne sarebbe degno perché ha manifestato opinioni sessiste, cioè ha detto non sono d'accordo sull'adozione dei gay, e politiche. Delon non ha mai sbandierato, ma non ha mai neppure nascosto, le sue simpatie per la destra di Le Pen. Ma se Alain Delon, che è autore di una serie di capolavori, da Rocco e i suoi fratelli al Gattopardo, è indegno della palma d'onore, chi può esserne degno? Qui assistiamo a un meccanismo veramente paradossale, cioè femministe, omosessuali e qualunque altra minoranza vi venga in mente, sono passati dalla giusta richiesta di essere riconosciuti dalla società alla pretesa di emarginare chiunque senza commettere reati, manifesti opinioni diverse dalle loro. Gli ex censurati, che si battono per la propria libertà, non appena la raggiungono, desiderano toglierla agli altri. È un meccanismo simile a quello che abbiamo visto in azione al Salone del Libro di Torino, dove ricorderete, un editore dei libri non fascisti, Altaforte, è stato escluso per le idee fasciste del proprietario. Avanti così. Il prossimo passo sarà selezionare chi ha diritto di voto, in base alle opinioni che esprime su Facebook. Perché un fascista, infatti, o un omofobo dovrebbero avere il diritto di scegliere chi ci governa? Sono un pericolo per la democrazia. E chi lo ha detto? L'opinione pubblica, anzi, quella parte dell'opinione pubblica minoritaria, che ha in mano le chiavi dei media. È una situazione da brividi, cari amici. Grazie.